chi mi sveglia dal mio sonno perpetuo chi sei tu vorrei davvero saperlo anch'io fino a poche ore fa ero solo una bambina di nove anni adesso continuo a crescere a crescere dentro e a cambiare cambiare non è poi così strano anch'io tra un po dovrò cambiare solo che quando toccherà a me farlo non sarà così strano perché sarà il momento giusto il momento giusto per cosa per trasformarmi in farfalla per cosa se no allora lei è il bruco questo sì che è spirito d'osservazione domando scusa è che mi sento così sono proprio sotto sopra perché sei troppo grande non dovresti esserlo ancora vuoi dire che non sarò mai abbastanza grande da poterti capire o forse lo sei troppo ecco questa deve essere una delle sue domande che sembrano risposte risposte che sembrano domande